grande 7 secondi e 56 hai battuto il record di stupidità è inaccettabile buongiorno Stephanie non è ancora in vacanza deve rispettare le regole di sicurezza guardi Michelle e si guardi lei non nota una leggera differenza? di certo non abbiamo lo stesso stile no, 1 nell'area di stoccaggio è obbligatorio indossare il casco non prenda il casco di Michelle 2 gli occhiali non vanno sulla testa ma sugli occhi 3 lei indossa dell'infradito e non le scarpe antinfortunistiche 4 gli auricolari vuole sentire? no, evitato utilizzare l'auricolare nell'area di stoccaggio impediscono di sentire ciò che accade nell'ambiente circostante 5 il camice è una camicia? no, deve indossare il camice e deve stare abbottonato non si può più dire niente no, abbottoni il camice abbottonerà il camice quando lo metterà 6 i guanti Michelle i suoi guanti Eric i suoi ecco, sono contaminati complimenti Michelle per la contaminazione i suoi Eric e immagino li avesse indosso anche mentre usava la tastiera del computer non cerchi di negare ho visto la tastiera grazie Michelle, può andare grazie Michelle a dire il vero di solito li tolgo molto bene, mi mostri come li togli è molto semplice no ah, tiro in corrispondenza delle dita neanche metto il pollice all'interno niente affatto non è così che si tolgono i guanti così si rischia la contaminazione bene, si afferra la parte centrale del guanto ok? si rivolta il guanto e si appallottola poi con l'altra mano si impacchetta la sostanza chimica e ora si possono buttare via nessun rischio di sovracontaminazione è chiaro? ora provi lei sì allora, prendo la parte centrale del guanto lo appallottolo poi lo giro da questa parte ed è fatto e la spazzatura? beh, sono stato bravo ci sono quasi riuscito non esiste il quasi quando si tratta di sicurezza suo padre non ci ha chiesto di quasi assumerla come stagista a proposito è proprio lui che vado a trovare durante le vacanze molto bene potete esercitarvi insieme forte per una volta faremo qualcosa insieme ok, ho imparato la lezione i dispositivi di protezione individuale dispositivi di protezione individuale ok buone vacanze Eric grazie Stefanie caspita chi è che ha lasciato di nuovo in giro i suoi dispositivi di protezione individuale tutti contaminati? non è possibile ben detto Eric grazie ma è stato lei safety strike now grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.